Io farei una cosa, ci inoltriamo in questo cubo perché secondo me dalla parte di là c'è la luce Qui dal ponte sull'Era che passa sul fiume Era, vediamo davanti a noi un fiume umano il corso Matteotti di Ponte d'Era che ancora agli albori della notte bianca sembra una massa uniforme di teste è veramente impressionante quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi quello che si sta materializzando la notte bianca sta cominciando a prendere fiume 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 umano la notte bianca sta cominciando a prendere fiume umano la notte bianca sta cominciando a prendere fiume umano una mamma di Miss una mamma di Miss abbiamo qua tutte impegnate al backstage prima dello spettacolo di Sonora vediamo qua abbiamo sono pronte a uscire la notte bianca sta cominciando a prendere fiume umano qua abbiamo delle bellezze incredibili laura cellesi anche lei era il regista di sicuretto qua abbiamo la nostra tecnico di laboratorio ripestata vieni no come era? tecnico di laboratorio abbiamo una coreografa qua presente Mariela Fabozzi di Cascina io penso sempre l'ho conosciuto a Ponzacco e sia di Ponzacco Laura, Laura, guarda là che belle non inquadra da metà in su oh, l'ha detto, eh io, facciamoci la firma allora, in che data ci sposiamo Silvia? ma un pochino è fidanzata, capito? tu la c'è da uccidere il fidanzato che c'è ora poi gli devo produrre il mio conto corrente in banca, perché oggi è senza conto corrente, e se raggiungo la cifra stabilita ho qualche mi deve donare abbastanza bene questo, questa cosa si si si, si, la mia la mia, la mia Africa la mia Africa notte bianca, ma guardate che colori guardate che colori la nostra Elisa di Grosseto che è venuta fino da Grosseto a illuminare questa notte bianca sei emozionata? è abbastanza tante ragazze hai già sfilato? fuori? sei già ancora uscita? no, ancora no fuori ho visto un'attesa mi hanno detto che nascerà una stella nascerà una stella speriamo che sia la stella di Elisa eh? guardate io inquadra la mia tutta e speriamo di portarti fortuna perché noi siamo un po' il portafortuna della notte della notte bianca tutte quelle che che ma cosa vuoi fare si è da grande? ingegnere ecco lo sapevo guardate che si pensava questa è ingegnere ingegnere nucleare civile civile lei è una ragazza civile non è una ragazza che 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 butta le le cicche per terra nemmeno fuma però balla dance dance revolution poi vi spiegheremo cos'è siamo in compagnia qui nel backstage con Serena Magnanenzi coinvolta anche lei nei colori della notte bianca lei ha messo il rosso di contrasto e qua come si stanno comportando queste ragazze che stanno sfilando? beh le ragazze sono bellissime le stiliste bravissime io no non posso che ringraziare gli organizzatori e soprattutto Sandra Telie che mi ha cucito addosso questo abito rosso che è anche un po' scaramantico devo dirlo no sicuramente no diciamo che te l'ha cucito proprio a pennello è una seconda pelle questo abito speriamo porti fortuna questo è indubbiamente tra l'altro so che la fortuna ti ha in qualche modo baciato perché credo che tu dovrai essere una dei volti nuovi della vita in diretta su Rai 1 esatto già è così ieri ho avuto la mia prima diretta e quindi passerò questo inverno su Rai 1 sono molto contenta devo dire bacio una sola una sola una sola una sola elisa billi from florez entriamo 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 ora vestiti non è nuda però non si può Grazie a tutti